Credevo moltissimo in questo spettacolo, in questo nuovo modo di fare teatro e fare un qualcosa che fino adesso qua in Sicilia non si era mai fatto. Il dottor Salvo Bivona le ha anche omaggiato una targa in onore al suo impegno imprenditoriale. Sì, ringrazio moltissimo il dottor Salvo Bivona per avermi omaggiato a questa targa di cui io cercherò con tutto me stesso di riuscire a creare un'imprenditoria molto forte qui in Sicilia che guardi moltissimo l'ambito cinematografico, televisivo, editoriale. Noi abbiamo visto il lato sarcastico della commedia, molte però sono le emozioni e le sofferenze che si aggiravano attorno a questi dannati. Sì, c'erano alcuni personaggi, anche alcuni brani musicali lo sottolineavano, c'erano alcune storie d'amore particolarmente tormentate perché l'amore è un sentimento che permane talmente forte che lo ritroviamo anche nell'aldilà, voglio sperare che sia così. E presentiamo Mephistofel, il signore dei tutti i mali, che per arrivare a questa famosa promozione deve affrontare, ahimè, tante vicissitudini. Sì, tra l'altro si trova circondato da dannati che non sono più quelli di una volta, quindi lui veramente si avvilisce, però alla fine poi con la complicità di tutti c'è una specie di lieto fine. Ma ridere un po' sul male è una cosa carina sempre perché alla fine insomma il diavolo lo possiamo rappresentare come vogliamo, se pensiamo al male assoluto c'è poco da scherzarci su. Alfredo Libassi, qual è stato il tuo ruolo? Noi facevamo i fratelli Martona, Martorana, una cosa di questi, cioè nel senso giocavamo su questi due personaggi che erano diciamo ai minchioni del paese e loro sfottevano su questi ruoli, questi due personaggi. La giovanissima Anna Lisandra, donna licenziosa e sensuale che però mette un po' in difficoltà Mephistofele. Eh sì, diciamo che è lui più che altro che mette in difficoltà a me perché io cerco di arrivare sempre più su ma lui non ce la fa. In cosa è determinante Caronte? In cosa è determinante? Diciamo che effettivamente è un Caronte molto sui genetis, diciamo ecco, mi hanno detto più di una volta che sono un fancazzista, effettivamente sì, diciamo che me la sono presa molto alla leggera. È presente in questa commedia anche questo filosofo infernale che polemizza su tutto e su tutti. Sì, è vero, è un filosofo particolare, il mio personaggio appunto si chiama Cesare, è un personaggio molto complesso, diciamo che parla anche di cose molto reali. Simona, giovane, donna tormentata un po' da questo brutto carattere del marito? Beh, molto tormentata perché considera che lei è un personaggio che affronta quasi una rottura del suo matrimonio, è una cosa che avviene giornalmente. Presenta e modera questa commedia Anna Teresi. Sì, intanto saluto tutti quanti, ai tali ascoltatori. Presento questa commedia bellissima, brillante, che ci fa riflettere moltissimo ai giorni d'oggi. È presente in questa commedia brillante il maestro Ignazio Pensovecchio, pioniere del profondismo pittorico. Hai realizzato durante lo spettacolo una tela. Sì, in questo spettacolo ho pensato bene di realizzarlo raccogliendo gli afflati che provenivano proprio dagli attori, dalle musiche, dai colori.